ciao a tutti e benvenuti nel canale video della maschera riposta io mi chiamo Mosè e in questo video voglio aprire con voi una scatola che mi è appena arrivata la scatola anzi non solo la scatola ma questo materiale relativo a questo gioco che si chiama canvas non c'è scritto niente sulla scatola ma è fatto apposta va bene c'è scritto dietro eccolo qua canvas perché l'idea non so se riuscite a vederlo dopo ve lo mostro meglio l'idea è che questa scatola può anche essere appesa come un bel come un bel dipinto va bene fuori dalla scatola c'erano queste cose qui queste carte e questo e questo sacchetto va bene questo è un gioco che a suo tempo sostenne su kickstarter qui ho preparato tutte le informazioni allora il pagamento me l'hanno preso il 20 maggio la campagna è finita quindi il 20 maggio 2020 quindi ci ha messo meno di un anno ad arrivare vediamo qual era il momento dicembre 2020 doveva essere consegnato quindi vabbè un po di ritardo ma insomma fisiologico per i kickstarter e qui posso anche dirvi quanto pagai pagai 49 dollari corrispondenti a 41 euro per questo canvas più complete bundle quindi penso fosse il pledge massimo però qui non è indicata la spedizione quindi questi questi 41 euro non includono la spedizione ho un vago ricordo di come di cos'era questo gioco lo baccherai principalmente per il tema e perché fui molto affascinato dalla presenza di queste carte trasparenti però non mi ricordo assolutamente quali sono i meccanismi di gioco se mai li ho saputi quindi ora vedremo semplicemente il contenuto di questa scatola poi in futuro ovviamente vi farò vedere anche un esempio di gioco e vi darò anche il mio il mio parere però per il momento abbassiamo lo sguardo sul tavolo e scopriamo assieme cosa c'è dentro tutte queste belle scatoline e questi bei sacchetti oh eccoci qua con canvas e le varie componenti aggiuntive all'interno di questi sacchetti io direi che prima diamo un'occhiata al gioco base e poi apriamo anche queste altre queste altre componenti aggiuntive intanto vi ho già fatto notare il fatto che la scatola non ha nessun titolo ma questo è fatto apposta perché l'idea è che questo possa essere anche un quadro da appendere vedete guardate dietro vedete la scatola che funziona un po' come un cassetto ecco vi faccio notare che è stata un po' schiacciata in realtà durante il trasporto non è proprio ottimale il modo in cui è stata progettata la scatola forse doveva essere un po' più diciamo sporgente questo pezzo questo pezzo qui in maniera da chiudersi meglio sopra il cassetto diciamo comunque insomma vedete c'è un cassetto e fondamentalmente tolto il cassetto è possibile vedete appendere questo come se fosse un quadro no questo è perfettamente in tema perché in questo gioco siamo pittori che stiamo dipingendo le nostre opere va bene vedete i designer sono jeffrey chin e andrew nerger l'arte è di luan huin ovviamente le mie pronunce sono sempre un po' così un po' maccheroniche uh scusate sono andato addosso alla videocamera in canvas you are a painter competing in a prestigious art festival in canvas siete pittori che competono in un prestigioso festival d'arte collect transparent cards and layer them to create paintings collezionate carte trasparenti e mettetele una sopra l'altra per creare dipinti depending on which card you choose and the order in which you place them a seconda delle carte che scegliete dell'ordine in cui le piazzate you will reveal or cover icons to earn ribbons creerete o nasconderete ribbons con carde potremmo dire che vi faranno guadagnare punti each card combination creates a unique illustration and title for your painting ogni combinazione di carte crea un titolo e una composizione unica per il vostro dipinto beh questa è un'idea geniale ed è il motivo per cui per cui appunto baccherai a suo tempo questo gioco tanto c'è già un award play test party best tabletop game award winner vabbè ha vinto il miglior gioco in questo play test party che non so bene cosa sia poi vabbè ci sono i contenuti e l'esempio un po' di come funziona il concetto alla base del gioco molto bene allora signori è il momento di aprire questa confezione ah beh vi faccio anche vedere che vedete è da 1 a 5 giocatori dai 14 anni in su quindi ma non semplicissimo io pensavo fosse un gioco in realtà molto semplice boh forse a questo punto mi viene da pensare che ci siano degli elementi di complicazione che non avevo considerato comunque lo scoprirò molto presto e le partite durano solo 30 minuti vedete quindi alla fine dovrebbe essere un gioco semplice no? come mai questa età così alta richiesta vabbè non lo so chi può dirlo tra l'altro poi quelle indicazioni lì non sempre hanno un preciso riscontro le indicazioni sull'età apriamo questo cellophane e vediamo cosa c'è dentro questo bel cassetto sempre se riesco ad aprirlo senza distruggere tutto quindi togliamo la plastica e scopriamo insieme oh che sorpresa ci riserva questo gioco allora vediamo un po' buttiamo via la plastica eccolo qua il gioco senza quella plastica e vedete adesso togliamo questo bel cassetto e vedete questo è quello che vi dicevo prima no? volendo adesso questa cosa può essere appesa vedete qui c'è proprio il buco per appenderla al muro beh una bella idea è veramente una bella idea anche perché è un dipinto proprio cioè bello insomma è molto bello da vedere no? poi vedete anche i lati privi di qualunque scritta quindi già questa no? apprezzo moltissimo e in generale quando gli autori di giochi da tavolo riescono a rendere tutto utilizzabile no? anche la confezione ci sono giochi che pochissimi a dire il vero ma ci sono stati che usano la confezione la scatola stessa no? come materiale di gioco o comunque provano a dare un senso no? a tutto va bene? trovo che sia molto molto bello e signori qui abbiamo il contenuto della scatola allora abbiamo queste robe qui che presumo siano bustine non lo so questo è tutto trasparente quindi presumo siano bustine poi abbiamo il mazzo di carte va bene? questo qua lo voglio aprire perché vi voglio far vedere è uno dei concetti più più curiosi no? alla base di questo gioco quindi vi voglio far vedere come sono fatte queste carte vedete sono come si chiama questa roba qui? acetato? ha un nome preciso questa cosa trasparente no? vedete? e oltre ad avere vedete sotto delle icone no? un qualche elemento compositivo hanno anche un titolo quindi sovrapponendo diciamo queste queste no? questi fogli trasparenti si crea un dipinto e anche un titolo vedete? guardate per esempio abbiamo creato con questa sovrapposizione l'unshamed obstacle va bene? e questi sono i simboli presumo che bisogna controllare per vedere quanti punti abbiamo fatto no? e ce ne sono vedete veramente tantone guardate oppure guardate l'extreme truth è questa qui vedete? extreme all'onda e truth alla pila di libri vedete? guardate sono veramente veramente tante e sono veramente anche molto creative no? devo dire che non vedo l'ora di provare a giocare a questo gioco perché trovo che questa idea sia veramente veramente simpatica quindi questo è il mazzo di carte poi vediamo un po' ah c'è questa specie di ecco qui dentro c'è un altro mazzo peraltro ah questi sono forse gli sfondi no? perché vanno messe sopra diciamo a uno sfondo colorato le carte trasparenti quindi forse questo è il loro scopo e vedete c'è anche questa specie di ulteriore cassettino perché l'idea è che quando si pesca una carta non bisogna sapere cos'è no? quindi le carte disponibili vengono messe qua dentro penso sia questo adesso io non ci riuscirò mai ma insomma penso che lo scopo sia fondamentalmente nascondere le carte alla pesca no? così che vengano pescate più o meno alla cieca queste carte trasparenti perché ovviamente è impossibile metterle coperte no? queste carte qui quindi bisogna trovare è un modo ingegnoso diciamo per coprirle va bene? poi cos'è sta roba? sapete che non ho... è una roba di stoffa cos'è? proviamo a vedere ha un... questa cosa che la tiene cos'è sta roba? ma è bellissimo cos'è? ah forse è un... invece della plancia no? forse sempre per restare in tema con la... col canvas con la tela c'è questa plancia di tela diciamo beh bello eh? molto bello apprezzo moltissimo quando i giochi si sforzano no? di... 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 di far sentire il tema e devo dire che questo gioco si sforza parecchio c'è il manuale va bene? le regole è molto sottile e tra l'altro ha una bellina sapete che ha la stessa texture molto molto carina dei... dei... la stessa superficie un po' ruvida dei manuali no? del regolamento per dire di wingspan non è proprio identica però insomma ricorda un po' ricorda un po' quella va bene eh... overview vedete diamogli un'occhiata veloce setup on your turn complete a painting game end solo variant e scenarios ci sono anche scenari molto interessanti si vedete è un manuale molto sottile insomma un regolamento molto sottile poi avete le immancabili fustelle sono due ah... guardate c'è anche una specie di... di... suggerimento su come mettere via forse? si vedete qui vanno i token qui vanno i token qui vanno le art cards qui vanno le scoring e background cards e... e... e i tokens presumo sono questi che sono queste belle queste belle ghirlande ah... e sapete... scusate queste belle coccarde e queste tavolozze e adesso ho capito cos'è cosa sono vedete queste robe qui che sono in queste... che è in questo sacchetto che era all'esterno della scatola sono dei componenti upgraded vedete sono proprio le stesse cose ci sono anche dei cavalletti andiamo a vedere scusate eh... tolgo eh... un po' di roba da... da... dall'inquadratura no... non l'ho tolta bene sono andato addosso di nuovo alla telecamera dovete perdonarmi eh... sono un po' sono un po' come si può dire maldestro allora... vediamo cosa c'è dentro questo sacchetto vedete che sono chiaramente quei componenti beh... ci sono dei cavalletti che presumo servano no... a... mettere le opere d'arte create nel corso del gioco ragazzi non riesco a aprire questi sacchetti ok ce l'ho fatta e... vabbè dentro c'è anche il coso dell'umidità e la bustina dell'umidità e come funzionano? ah funzionano così guardate vedete hanno semplicemente questo... questo pezzetto che sporge dietro quindi funzionano in questo modo vediamo quante ce ne sono ce ne sono un bel po' eh... uno... due vediamo un po' tre andiamo avanti quattro e cinque ce ne sono cinque forse perché è da uno a cinque giocatori quindi uno per ogni giocatore qua dentro invece vedete ci sono le tavolozze e le coccarde guardate vedete coccarde tavolozze eccole qua guardate tavolozze e coccarde vedete nei cinque colori anche qua previsti per i giocatori quindi sì questi sono semplicemente upgraded components no? le dispongo le dispongo qui vedete e queste invece sono quelle incluse nella scatola se il gioco andrà nei negozi come presumo vada così sapete cosa aspettarvi insomma presumibilmente l'edizione normale del gioco nei negozi avrà queste componenti di cartone non lo so oppure magari le venderanno anche al di fuori del kickstarter questi componenti questi componenti upgraded non ne ho idea e poi queste carte hanno l'aria di essere semplicemente delle carte in più quindi probabilmente anche questa era una esclusiva kickstarter vedete ci sono delle carte trasparenti in più e ci sono anche delle carte obiettivo in più rispetto a quelle presenti nel gioco base sono un po' non sono solidissime queste carte questa è una critica che mi sento di poter di poter fare va bene bene signori vi ho fatto vedere tutti i componenti all'interno di canvas e questo signori era il contenuto della scatola di canvas va bene questo gioco che sono curiosissimo di provare quindi ora mi tufferò nel regolamento e cercherò di scoprire come funziona e naturalmente quando ci avrò giocato un po' quando mi sentirò sufficientemente preparato realizzerò un video con un esempio di gioco e anche una video recensione e una recensione scritta sulla maschera riposta seguiteci naturalmente per restare sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche e vi voglio dire un'ultimissima cosa magari qualcuno di voi può essere interessato con non troppo sforzo a dire il vero sono riuscito a mettere tutte le componenti deluxe extra che erano presenti in quei sacchetti fuori dalla scatola del gioco quando mi è stato recapitato all'interno della scatola del gioco quindi qui dentro c'è tutto l'unica cosa è che non ho messo dentro le due fustelle con questo materiale che a questo punto non serve più nel frattempo sto staccando tutto questo è il materiale che viene diciamo upgradato nell'edizione diciamo kickstarter poi non so come funzionerà per l'edizione retail comunque tutto quello che avete visto alla fine a parte questo qua dentro ci sta va bene quindi questo è un elemento sicuramente da tenere in considerazione bene quindi in futuro vi parlerò più approfonditamente di questo gioco intanto vi ringrazio ancora per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo Mosè dalla maschera riposta vi saluta ciao ciao